Il Vares Moia aveva portato a casa 12 penalità, quindi non proprio un bel giro, si è rifatto nel secondo con un bel netto che ha regalato alla seconda Manche, alla Spagna, solo 8 penalità e quindi per un totale di 21 penalità Un secondo posto interessante, importante, una buona prova che però non gli importa nient'altro Perché solo la vincitrice oggi contava, solo la squadra vincitrice Eccoli in svedese E la squadra svedese festeggia sul gradino più alto del podio del campo di Barcellona Ciao!